ciao a tutti ho appena ricevuto la box del mese di agosto mi è piaciuta moltissimo ci sono solo forse una o due cose che non mangiano ma tutto questo sito io mostro subito il contenuto allora ho trovato questo del monte solo di gusto esottico senza zuccheri che non avevo mai assaggiato poi una birra di rigoni di asiaco che non sapevo neanche che esistesse e l'adoro mio padre l'unica cosa che non mangerò è questo pan brioche perché ha il latte poi abbiamo olive devono avere un gusto davvero particolare perché sono arancia e finucchietto poi ceci neri panino rustico che si farà un po come ma la piadina però riscaldata molto bene poi ho queste specie di caramelle col bastoncino che darò al mio nipotino dei grissini gli ore originali questo aceto basta di aceto balsamico infine questa pasta in questo formato molto particolare quindi come vi ho detto altre volte vi lascio il mio codice sconto potete utilizzarlo per abbonarvi e avere la la prossima box a soli 7 euro e 90 se non sbaglio e poi potete tranquillamente non continuare altrimenti se andate avanti con l'abbonamento avrete un vostro codice sconto e ogni due amici che si iscrivono col vostro con col vostro codice box sarà gratis quindi a me manca una persona per avere la box di settembre gratis per cui dai iscrivetevi tutta il piano tenete una soltanto io vi aspetto per l'unboxing del prossimo mese ciao ciao